Ciao a tutti, io sono Fabio Zonini, sono qui con Daniele Badovan e Stefano Travagini e Vincarco. Volevo ricordarvi che il 15 febbraio saremo fra gli ospiti nell'ambito del convegno di Corpo Ressano, il convegno del Forza e Teatrofia di Corpo Ressano della FIF a Bologna il 15 febbraio. Saremo tre fra i prestigiosi relatori al convegno e ognuno di noi porterà un argomento con delle applicazioni estremamente pratiche. Io parlerò di BIM, di che fibra sei e ti dirò come allenarti, quindi darò degli spunti sull'allenamento, sulla programmazione dell'allenamento per Forza e Teatrofia in base al tipo di fibra muscolare e alla prevalenza di uno o l'altro. Parleremo lì, mentre noi invece parleremo dell'allenamento femminile, partiremo da dei concetti che ha sviluppato Stefano e che ha testato direttamente su di me e vedremo di darvi degli spunti fruibili alla signora Pina e alla ragazza che si vuole mettere in forma per l'estate. Premesso, questi due hanno vinto delle gare, prepara per gente che ha vinto delle gare, non come fotoscritto che ormai è un vecchio, ma sono gare natural e comunque porteranno l'applicazione anche per la persona che fa fitness in maniera non competitiva, non agonistica. La Fiat possiede la Ferrari, testa sulla Ferrari delle cose che poi applica anche la Fiat 500. E mentre Tango cosa fa? Che relazione fa Tango? Tango, meglio non dirlo cosa potrebbe fare Tango. Comunque se no, ci tocca censurarci. Bene, ci vediamo il 15 di febbraio. Il 15 febbraio, Bologna, Incorporo e Sano, convegno Forza e Pertrofia con Stefano Tervaglini, Daniele Tervisan, Tango, Fabio Zoni, poi ci sarà Mario Civaleri, ci sarà Martoneri, Luca Frazon, ci vediamo lì, vi aspettiamo. Ciao!